allora rieccoci ci ho pensato sul fatto di fare subito cioè di fare a questo punto la missione principale e ci ho riflettuto un po io direi che forse è meglio prima potenziare un po ad esempio le armi eccetera l'ho fatto delle ricerche a proposito delle armi e noi alla fine di leggendare non abbiamo niente e c'è un grosso problema ossia maggior parte sono associate a quelle leggendarie poi ovviamente possono interessare tutte perché non so se per esempio non si usano i dischi eccetera uno dice vabbè però la maggior parte sono associate tutte a finire per esempio l'arena al finire le cate le gare le rovine i terreni di caccia le scatole nere ma la cosa peggiore a quanto pare è che parecchie sono associate invece all'arena e abbiamo continuamente competere in arena ed è proprio un grinding ha fatto due due ricerche è proprio grindare a manetta fare l'arena perché ci sono almeno tre armi 3 4 armi lì di cui la migliore è un arco da caccia che si chiama death seeker shadow il valore agone inglese perché le guide si trovano in inglese per lo più vuole 80 medaglia dell'arena non so non so non mi ricordo comunque non penso di di averle mai fatte non so quante diciamo così arena bisogna fare per ottenere 80 medaglie il problema è che tutte richiedono per esempio una interessante sarebbe quello che si chiama un forge fall un arco lungo vuole 54 di medaglie e pica invece a col arco da caccia che siamo noi migliori sono 80 quindi presumo che sia una cosa da spendere quindi così 54 poi devi fare altre 80 ce n'era un alto da 80 mi sembra io ho fatto due controlli quello che potrebbe essere interessante nel senso anche fattibile lo sano scorge è un arco da caccia adesso qui allora trovate una buona guida sui gm igiene com tutte le armi e vanno di grado in grado e invece un'altra su the gamer puntocom e quello invece è più più diretto dice questo sono la lista delle migliori arme igiene più completo invece da quello che vedo ci sono addirittura delle armi una singola arma per tipo sembra più o meno e si trovano solo nel si fa se si fa new game plus per esempio il quale dice che richiede 10 tokens come campione penso anche perché dice che si può comprare degli hunter quindi cacciatore quindi penso che anche questo sia associato con ancora al discorso del dei terreni di caccia e poi sono 14 quanto pare e gare su solo 4 ma l'arma che da non mi sembrava interessante per me adesso non mi ricordo quale perché quanto pare i terreni di caccia nel game normale e ti dà un'arma da un'altra arma se lo fa se pariente non so se vale per tutto ma se lo rifà nel new game plus insomma so pare che il new game plus cos'è risetterà tutto mi pare che rimangano le armi no almeno per esempio forse si resetta tutto si può essere comunque sono cose fuori assolutamente la portata tra parentesi io volevo registrare molto prima ma dove ho fatto a caccia c'era di potenziare un attimino le borse non è che sono riuscito a potenziare alla fine quello delle frecce a livello 4 perché è il massimo quello delle frecce dell'arco lungo diciamo ma non vi dico devo cercare una forcella di gufo 20 minuti 20 minuti non c'erano guffi bisogna stare attenti perché comunque partono scappano con facilità e comunque non necessariamente la droppano perché era una cosa viola dunque 20 rotti minuti e sinceramente io è una cosa che odio ero veramente stufato poi ho provato a mettere anche altri ho provato per esempio quello della bomba ma anche lì le piume di gufo altro stranamente ti manda in un'altra posizione perché poi avete ci sono cioè ci sono varie posizioni sulla mappa dove trovi quelli magari c'è una migliore di quella che mi indica lui perché per l'arco per l'arco mi ha dato una posizione per le piume di gufo un'altra però sono pochissimi cioè poi anche la spigola anche lì ecco per esempio il pesci luna mi sembra la pelle del pelle mi sembra il pesci luna anche in una faticaccia deve sempre stare nell'acqua e non le trovi comunque vabbè allora arrivando arrivando invece al dunque io ho visto che ci possono essere due armi interessanti più o meno accessibili per me e uno è appunto il sans corse se si fa tutti i sei campi ribelli allora noi altra ne abbiamo fatti due mi sembra e sappiamo la posizione del terzo perché poi sembra che facendoli tutti poi si parla con e renditi da questo arco mi sembra aver capito l'altra cosa invece fattibile noi vogliamo un taccuino oggetti sicuramente non mi ricordo se da qualcosa può essere comunque ne mancano due le scatole nere per esempio un'altra cosa interessante è la scatola nera ne mancano due che ci darebbe una fionda che però ha una cosa che non troviamo praticamente mai le sticky bomb quelle appiccicose che ti bloccano potrebbe essere interessante anzi con lei magari potrebbe essere interessante cosa sticky sarebbe stato interessante provarlo magari con se l'ha la bestia come schiava quello là che è un pipistrello gigante no visto che non stava mai fermo però quindi alla fine le due più papabili sono quelle finire le due scatole nere e fare i campi poi vabbè dicevamo in realtà abbiamo anche altre missioni ancora non so se poi ce ne sarebbero anche altre però allora io ho preso questa decisione ovviamente ci ha associato anche le fosse secondo le armi cioè praticamente devi completare un po' tutte le le collezionabili queste cose qua queste sfide per avere delle armi però ripeto uno può anche non volerle usare nel senso sono armi che magari non usi mai quindi non cosa che invece non ho ancora guardato è venutamente dopo però come vestiti siamo messi decenni senza abbiamo un po' un po' di tutti i tipi certo non sarà il massimo allora quindi quello che stavo dicendo è che ho quasi tentato di fare una cosa di questo tipo fare i famosi episodi extra fare episodi extra in cui faccio i campi e finisco i droni una miniatura in bianco nero con scritto extra e quindi se a voi non vi interessa saltate a partire già da questo episodio se vi ho dato la spiegazione se volete lasciate perdere oppure guardate questo e non guardate gli altri non non vi obbligo ma pare che nessuno obbliga a nessuno quindi non è che il punto è il punto sapete che io preferisco comunque registrare tutto potrei farlo da solo ecco ovviamente il farming quello l'ho risparmiato un attimo sì sui gene anche le armor rare veri rare leggendaria quanto vedo qua leggendaria ne conta 6 mi sembra c'è scritto tutto dove comprarla quindi forse si comprano tutte tranne una osera martifice vediamo ecco poi il fatto è questo io non so non ho idea di cosa ci verrà contro con la missione finale se io faccio per esempio i campi innanzitutto magari arrivo anche al 50 no forse forse no ma comunque salgo ancora un po' di livello guadagno ancora un po' di vita che in realtà ce ne da pochissima e poi certo è che non ho tanta voglia di fare questo non ho mai fatto finora non ho voce indifferentemente allo streaming o meno il farming non è una cosa che mi piace quindi dico certo potrei anche potenziare anche i vestiti per esempio potenziare qualcosina le armi che abbiamo ecco perché a proposito tornando al discorso dell'arma al Sun Scourge quell'arco lì in realtà io tendo a usare sempre quello lo sapete cioè tendenzialmente uso perché questo ha comunque 50 di danni e 173 di accelerazione è il migliore che abbiamo alla fine non c'è questo 33,73 44,146 ecco per esempio se noi vogliamo quello acido ok se voglio dire per esempio lo abbiamo su questo acquatico che fa 57 di accumulo di acida in realtà c'è questo che fa 80 ok che è quello appunto quello che usiamo di più il Sun Scourge c'è il problema che non fa danni di lacerazione eccetera fa tutti i danni elementali però non lo trovo ecco fa danni di fuoco fa danni di ghiaccio di freddo ghiaccio e acidità però per dirvi i valori di fuoco fa 2,29 di freddo fa 2,33 e 2,38 di acidità cioè da 80 a 2,38 c'è una bella vista poi che magari io non so appunto cosa ci servirà plasma per esempio cioè plasma per esempio non abbiamo niente ecco questo non non mi sembra il massimo non abbiamo di ogni elemento non abbiamo qua dovrei cercare non c'è qua una plasma o non ha detto che ci sia un un arco con il plasma eh anzi vedere qua sembra di no ecco invece dicevamo invece per le 12 scatole nere d'arma che dà che appunto è un dov'è che lo trovo qua mi sembra ok si chiama le ali wings of ten si chiama le ali le 10 questo proprio perché si riferisce al fatto delle scatole nere no di quelli che volavano con gli aerei questo fa danni esplosivi fino a 203 non è male e lo sticky a 211 che è alto anche quello magari può servirci quello che non abbiamo è armi plasma vediamo se trovo vediamo se c'è il suo plasma weapons vediamo un attimo ok il forge fall eh l'unico che lo fa è il forge fall sembra oppure c'è uno forse lungo glow bust l'unico l'unico che lo fa è il forge leggendario è il forge fall il forge fall associato mi sembra l'arena se non sbaglio 54 infatti era quello che avevo quello che sembrava più interessante perché 54 medaglie eccetera però appunto glow bust glow glow blast è un arco lungo diciamo così a meno che non ce l'abbiamo aspettate ma non è ecco qua i sogni anche di precisione in italiano no ok ce l'abbiamo ce l'abbiamo non so se questo glow blast scoppia luce si sarà questo ok no ok un arco e poi fa un 168 ok niente quindi siamo a posto allora niente io direi che facciamo così come stavo dicendo cioè facciamo i campi faccio gli episodi extra a partire da praticamente questo cioè dopo di questa discussione facciamo gli episodi extra e faccio i campi allora proprio se ti parlo nei campi si può fare filtri togliere tutto cosa la cosa assurda è che io metto campi dei ribelli ok vediamo un attimo ma mi fa vedere anche gli avamposti gli avamposti sono piccoli i campi sono quelli più grandi questo l'avevamo fatto completato infatti c'è questo che è stato uno dei principali ce n'è uno qua che per fortuna vediamo quindi 1 2 3 4 e poi gli altri non li vedo posso anche andare a sbirciare in caso 4 noi andiamo 4 questi due qua quindi due fatti 1 2 e questi qua andiamo il gioco se si vuole giocarlo completamente chiaro diventa lunghissimo sono sempre lì è sempre il discorso di uno compra solo un gioco cioè i soldi solo per un gioco a tempo gioca a 200 ore questo sicuramente vado a parte sbagliato è bello che non avevo dovuto fare vedo che qua sotto lì ci sono dei pallini è stato più chiaro se per esempio dicevo la pagina 2 se si illuminava non so di giallo il secondo pallino quindi sapevo che era su quella pagina sapevo quindi la direzione non sape spiegare di tutto questi sviluppatori certo si se vuoi se ti ricordi che più o meno è la destra del va bene però secondo me si potevano fare comunque in un altro modo mentre appunto un riconoscimento dice metti che sono quattro pagine la pagina 3 c'era il cavallo vabbè dovevo farlo io questo lavoro è quello mi sa fatto adesso stare attenta perché l'ho già detto stanno facciamo uscire una marea di giochi tutti insieme adesso ho anche ripreso mano zelda che voglio giocare il seguito sul mio secondo canale il problema è che siamo un po' distanti il problema è che poi ti sbagli i controlli no perché cioè prima o poi infatti per esempio con quella con zelda non si non si prime lelle per tirare con l'arco ma si prime right quello destra infatti per un attimo quando sono toccati di gufi avevo problemi perché prima o l'altro tirava fuori la lancia così facciamo un casino da madonna il gufo se ne andava e prima volevo anche volevo anche iniziare allora io ho preordinato la deluxe edition di wolong che mi interessa molto ho messo che poi con i miei problemi c'è un faro in senso ho spostato la luce a me c'è i miei problemi di lucidami me lo permetteranno più o meno con i stessi problemi a gran fattiva ho fatto sia secolo che ogni o due però secolo non l'ho finito semplicemente perché sapevo che al finale non potevo farlo perché ho visto che c'era un boss di dieci minuti è un incontro molto lungo in due parti io ho detto no con il mio problema con l'alimentazione che mi toglie l'uccidità non posso reggere così a lungo non ho voglia di fare un milione di volte lo scontro tanto magari senza nemmeno comunque ricavarne nulla Wolong allora Nioh 2 è più facile di Sekiro per conto mio mentre dice Wolong sembra la versione Nioh Sekiro cioè praticamente la versione quindi boh il problema è che esce a marzo adesso siamo il 3 febbraio esce a marzo e in questo mese avrei potuto fare Ragnarok per esempio se io finivo questo diciamo in un mese fare Ragnarok per esempio roba c'è troppa roba ripeto stanno facendo scire troppa roba allora qui vedi i signori allora facciamo un'altra cosa andiamo qua scuola sto chiacchierando tanto allora missioni ehm filtrati nel campo almeno devo infiltrarmi a 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 andiamo un attimo su di qui allora va oh sentizio ho ricavato il mio modulo di overrider da uno di essi i ribelli hanno avuto la stessa idea non so se conviene far casino alertare tutti o questo lasciarlo perdere e entrare però che non si vedono allora ce n'è uno là un corruttore cioè io inquadro un uomo e mi dice corruttore primo livello del 30 questo perché è questa la i è questa qua fermo qua mezz'ora se si è incastrato lo sapevo perché non posso perché ha allertato che devo farci mi hanno vista abbiamo partiamo e basta cosa che fai sottamente non 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 è troppo mobile qualcosa lì non so poi bisogna vedere anche se avremo le scorte se avremo abbastanza scorte C'era sulla testa lei? C'era la 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 testa lei? delle bombe così vedrò con calma internerò ho una resistenza bassa al grinding faccio io poi dicevo comunque che appunto sono preoccupato in generale della missione finale perchè né più né meno vediamo che lo vediamo anche adesso qua no che volendo basta un tipo presunto livello 30 contro me 46 che quasi mi ammazza con una bomba questo per quello che dico quella la missione principale è data per questo c'è lo sticking 149 però siamo comunque lì anche le rovine si potrebbero fare anche se non mi interessa l'arma per esempio non mi sembrava interessante mi piace mi piace le bombe visto ci fossero più le bombe allora se riusciamo a beccarlo da qua questo ma come sei voi due insieme la troverete mirate un bel 368 in ghigna non so se si dice ghigna anche invece si dice ghigna quindi cosa è caduto questo spavano tutte queste cose qua no non è che si usa benissimo 920 cosa poi ci sarà questo problema qua che tra l'altro le borse sono al massimo messi qui cosa faceva non non la vita